Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle 4 monete verdi della settimana 5. La prima moneta si trova su questa imbarcazione, vicino Pozzo Traballante, non potete sbagliarvi. Una volta che siete arrivati sulla barca entrate dentro e voilà, ecco la prima moneta verde. La seconda moneta verde si trova praticamente qui sullo yacht di Deadpool, non potete sbagliarvi perché c'è un solo yacht di Deadpool in gioco. Quindi tutto quello che dovete fare è raggiungere lo yacht e la moneta verde si trova praticamente sulla parte più alta dello yacht. Adesso ve la mostro, quindi mentre raggiungo lo yacht vi rimostro sulla mappa la sua posizione, che è sempre la stessa tra l'altro, quindi nella parte alta, dove c'è Parco Pacifico, praticamente Scogliere Scoscese. Trovate la moneta verde qui, dove c'è questo grosso pallone, credo che sia un pallone di Deadpool. Vedete? Ecco la moneta verde, non potete assolutamente sbagliarvi, la vedete già dall'alto. E questa è la seconda moneta verde. La terza moneta verde si trova praticamente qui nella parte alta della fattoria frenetica, dove c'è la pista da corsa, tipo, e dove era presente anche la moneta viola la scorsa settimana. Non potete sbagliarvi perché la vedete già dall'alto. Eccola qua. Quindi, proprio davanti la pista, dove c'è la fattoria frenetica. Questa è la terza moneta verde. Vediamo adesso l'ultima moneta verde della settimana. L'ultima moneta verde della settimana 5, per la stagione 3 di Fortnite capitolo 2, si trova praticamente qui, dove c'è Lago Languido e Corso Commercio. Praticamente in questa stradina, vedete? Non potete sbagliarvi perché l'ultima moneta verde è dietro questa roccia. Vedete? Dove sta arrivando anche l'altro giocatore. E questa era l'ultima moneta verde della settimana.